Ragazzuoli, ciao a tutti e buona domenica. Oggi anche giustamente per forza di cose gli occhi sono puntati soprattutto su Arthur che ieri in tarda serata, nella nottata comunque tra oggi e ieri è arrivato a Torino per svolgere le visite mediche che probabilmente nel momento in cui uscirà il video avrà terminato ma attualmente mentre sto registrando le sta facendo e quindi per forza di cose, dato che anche la prossima partita mancano un paio di giorni oggi si parla soprattutto di Arthur e anche, beh, involontariamente, indirettamente anche di Pjanic perché le visite mediche sanciscono la fine totale in pratica della trattativa solo che oggi comunque allo stesso tempo anche un pochino a sorpresa a Torino farà le visite mediche un altro giocatore acquistato nel silenzio generale anche probabilmente a causa della poca fama della poca nomea che ha però comunque Fabione Paratici intanto ha anche piazzato un altro colpo precisamente Felix Correa del Manchester City che ha giocato con l'Under 23 del Manchester City se non sbaglio non penso abbia mai giocato in prima squadra però una mano sul fuoco onestamente non ce la metto e appunto anche in questo caso comunque si parla di uno scambio perché appunto Felix Correa arriva alla Juventus invece al Manchester City va Pablo Moreno che era un giocatore delle giovanili del Barcellona si parlava da Dio di questo giocatore, di questo talentino in ottica futura mentre invece mi pare che non abbia fatto praticamente nulla neanche con le giovanili della Juventus, con la primavera piuttosto che con l'Under 23 diciamo che nonostante le tante voci, le tante buone, belle speranze alla fine della fiera non abbia combinato praticamente nulla e quindi a tutti gli effetti Felix Correa sarà anche lui un prossimo giocatore della Juventus che vedendo l'età, classe 2001 e vedendo che comunque al City giocava nell'Under 23 poi è stato ceduto in prestito alla Zeta Alkmar e anche lì mi pare che abbia giocato nella primavera nella squadra delle seconde linee diciamo così comunque non ha giocato nella prima squadra fa pensare che probabilmente si aggregherà anche lui all'Under 23 anche vista appunto l'età e per farlo un attimino ambientare al calcio italiano solo che comunque non lo so ma allo stesso tempo magari sto facendo una riflessione completamente sbagliata io ed è una cosa probabilissima però pare che la Juventus sia abbastanza indirizzata a giocare anche la prossima stagione con questo famoso 4-3-3 la Juventus per quanto riguarda le ali qualche problemino ce l'ha nel senso sì c'è Douglas Costa che quando c'è è Douglas Costa e lo sappiamo tutti quanti c'è Quadrado che alla fine della fiera è più utilizzato come terzino che come ala c'è Bernardeschi che va bene nelle ultime partite quelle di campionato non sta facendo tremendamente male però comunque Bernardeschi è pur sempre un'incognita non sai bene che cosa aspettarti da Bernardeschi l'anno prossimo è vero ci sarà anche Kuluseschi che potrà impiegare come ala però si parla soprattutto di giocatori che abbiamo visto a destra ok a sinistra c'è Cristiano Ronaldo e alla fine sappiamo tutti che per quanto riguarda la titolarità non si entra neanche nel merito però insomma sto Felix Correa è un ala è un ala che gioca molto a sinistra gioca anche a destra quindi non lo so visto anche lui settore giovanile dello sporting portoghese magari si potrebbe vedere anche spesso e volentieri in prima squadra anche perché comunque con tutto il bene per quanto Ronaldo sia sempre Ronaldo a patto che rimanga perché fino a prova contraria attualmente rimarrà anche la prossima stagione alla Juventus insomma bisogna anche iniziare a tenere in considerazione la possibilità di avere un sostituto quantomeno una riserva per farlo rifiatare anche lui un minimo giustamente e quindi insomma sto Felix Correa non lo so magari a Ronaldo lo potrebbe prendere sotto la sua ala e mai dire mai nel senso non sto qui a dire che la Juventus ha preso il nuovo Cristiano Ronaldo assolutamente ci mancherebbe altro però io non sono tanto certo che comunque giocherà nell'Under 23 o che comunque non giocherà mai con la prima squadra anche perché alla fine bisogna anche investire sui giovani anche in ottica futuro e ragazzo comunque del 2001 ha 19 anni non è che sei 19 anni devi necessariamente andare nell'Under 23 perché sei giovane se sei forte se sei bravo vai in prima squadra avrai comunque le tue possibilità per dimostrare che sei un giocatore da prima squadra e magari fare qualche apparizione e dimostrare il tuo valore ed è più che altro ciò che mi auguro io perché di questo giocatore comunque se ne parla parecchio bene poi ovvio al momento prendi uno che giocava nelle giovanili del Manchester City e quant'altro nell'Under 23 del Manchester City non è che stai prendendo un bappé per dire però io non lo so mi gira bene oggi magari e sono fiducioso anche per questo ragazzo qui magari voi fatemi sapere qui sotto la vostra con un commento io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine forza Juve ciao 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 ciao